Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Smash Legend Arriviamo nelle like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non vi lascia l'hashtag SmashLegends Lo sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata Abbiamo un sacco di robina, intanto abbiamo degli eventi Spendiamoci il giorno 1, grazie, anzi giorno 2 in verità Evento svago, che cos'è l'evento svago? Evento tempo di gioco, ottieni biglietti ogni giorno in base a quanto tempo giochi Scambi biglietti ottenuti con alcune ricompense Ok, intanto ci otteniamo questo per aver giocato 10 minuti, molto buono Allora, partecipazione e inaugurazione, grazie Oh, robina per me ci piace Ci piace tanto Ok, Peter Roba per Cindy, roba per potenziare, che dopo potenziamo Allora, da quello che so, hanno fatto l'aggiornamento E quindi, visto che praticamente ci hanno lasciato col mantenimento, ci hanno dato punticini Ci hanno dato gemmini, vedete che bravi? Allora, giustamente ci danno un'altra volta Le chiavette raddoppiate Ci piace, grazie Eliminiamo tutti quelli che abbiamo già visto Allora, vediamo che altro abbiamo Ricompense e ripristi in arena Grazie, molto bene Ci dà l'altra robina per fare le casse Bonus prima vittoria, ok Allora, giustamente i bonus gratuiti non ci ritorniamo verde Raddoppi oggettoni gratuiti che sono buoni Giustamente si possono prendere anche con le gemme Ma io non le utilizzerò le gemme per adesso Perché devo capire bene le funzioni che dobbiamo fare Passa smash, questo dobbiamo andare ancora avanti Dobbiamo fare missioni Leggende, direi che oggi andiamo a potenziarci A provare Cindy Ok? Perché l'abbiamo presa ieri Quindi vorrei provarla assolutamente Giustamente ieri nel senso nel video Allora, vediamo un po' cosa fare Intanto so pure che praticamente possiamo aggiungere gli amici Mi avete chiesto il codice giocatore ragazzi Questo è il mio codice giocatore Se volete mandarmi l'amicizia Mi raccomando Allora, direi di andarci a fare delle partitine Intanto posso potenziare pure loro Potenziamoli Ce li abbiamo i soldini Perché non farlo? Ok, Peter Red E oggi ci andiamo a provare questa Cindy ragazzi Assolutamente Vai così Ok, siamo con Cindy Siamo con Cindy ragazzi Vediamo un po' Di là c'è uno che si chiama Tropica Non so cosa fa Oh Inter è I miei compagni non so che stanno facendo Boom Botta secca sul gruppo Ok Diamo tante botte a questi Cerchiamo di allontanarli Anche perché non so bene che cosa fa la sua super Quindi Ancora devo capire un pochino le meccaniche Quello aveva saltato, maledetto Questa la eliminiamo La lanciamo via Ho lisciato tutti Perché ho una mira fantastica Ok Dominio Stiamo dominando la grande con Cindy Non vedo l'ora di utilizzare la sua super Eccola qua che arriva Boom Bam Che botta che tira Caricone Allontaniamoli tutti dal centro Li facciamo volare come mai Portiamoci a casa sta vittoria Dai E boom Bel botto nel groppone Oh oh Ci ha usato la sua per lui Ok Allora io mi vado a prendere quella bombina lì Grazie Uoh Sulla faccia del nostro avversario Abbiamo vinto Ci piace Match molto fast Ci piace Ok Sicuramente non sono io giustamente come al solito Il match migliore Ti pare So scarso Però abbiamo le missioni Uh Monetine raddoppiate Ci piace Mi vado a prendere mia veramente cassetta Sì Cassetta per noi Regà Che troviamo Monete Punti per Peter Punti per Cindy Ottimo Proseguiamo Vi ricordiamo sul canale Twitch Potete venire a trovarci Ok Vi ricordo che questo gioco è sia per Android che per PC Allora è inutile quello che ho fatto mi sa Ok Boom Il male totale Ok Facciamo una cosa bruttissima E là Boom Bombone Sulla faccia Ah L'ho buttato pure giù regà Seriamente No Ho mandato dall'altra parte Ma perché Devevo attreste cose non le capisco regà Guardali Guardali come zompa Eliminazione Lanciato via Boom Lanciato via Con poca vita Vai La Ok C'è No mi sono buttato pure io sotto E invece mi salvo Perché posso io Guarda come è giampato via Volando Oh Ha impazzito No Mi hanno buttato via Non è vero Mi salvo No Mi risalvo E ho capito però hai rotto Eh tre quarti Mamma mia Te lancio via State rompendo tre quarti Di scatole Eh Non ho vita però Vorrei recuperarla Posso recuperarla Sì Vai così Madonna Quanta poca vita però regà Ok Ci tuffiamo Boom Aia Quella l'ho sentita però eh Oh Li sto buttando fuori lo stesso Con pochissima vita Dai che ho ricaricato la super Boom Aia Mi hanno lanciato via Per la prima volta Mi hanno lanciato via In questa partita Adesso siamo ancora 3 a 0 eh Quindi siamo ancora in vantaggio Non mi lamento Ok E Bam No me l'ha lanciata via lui Ok Ok ci piace Boom Perfetto Vinta anche questa Datemi Man vp Man vp Mamma mia Man vp Per la prima volta In questo gioco Ci piace Essere man vp P8 E facciamo anche le missioni Vi ho completato una delle missioni Del pass Abbiamo già fatto un'altra cassetta Così ci piace Monetine Peter Cindy Potenziamenti per noi Allora Possiamo ripotenziare Cindy Ma potenziamola Oggi è la giornata De Cindy rara Allora Pass smash Ci ha sbloccato qualcos'altro Missione Fatta grazie Non andiamo avanti nel pass Per pochino Ok dai Ci siamo Altra partitozza per noi E ci stiamo Fateci sognare Vediamo un po' Se riusciamo a vincerla Pure questa Sarebbe top Ok Al volo a dritto Boom Ok cerchiamo di No ci hanno già buttato fuori a tutti A noi qua Oh Sì ma mollami Maledetta Eh che diamine Aia Spadate da tutti i pizzi Vedrete No No ha saltato troppo vicino Che spreco Allora tanto c'è lui centrale Prova ad andare un attimo a prendere Potenziamento No mi ha preso Mannaggia la zuzzona Niente Sto volato di sotto Questa potrebbe essere persa A vederla eh Li vedo molto aggressive Questi Ma molto tanto Aggress Oh però mi piana a volo Che cacchio c'avete Ma che è Ma chi siete Ma dove andate Oh Fantastico regà Non l'avevo capito Boom Ho lanciato qualcuno via Vai che forse possiamo Recuperarla in qualche maniera Intanto non c'entra il quadro No 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 Ci entra Ok Non riesco a fare di nuovo Quell'attacco Era comodo Uno pari per ora Sembrerebbe uno pari Grazie Sono rinato io Ok Mi devo ricordare Che quella la devo utilizzata all'alto Faccio più danni No Che cos'è Oh Lanciato via E vaffanbeccolo però Fatemi saltare Niente Non ho saltato Boom Boom Ok Io sto saltando come Un'anguilla Però non riusciamo a Dominare il centro Eh Quello è il problema Perché c'è stato maledetto Con la Con la spadona Che mi allontana sempre Oh vai Due a uno Tempo sta terminando Forse possiamo pure tenerla Comunque Posso dire che è veramente molto Divertente Giocarlo così No perché Mi dispiace Ma qui al centro Ci mettiamo noi Boom Lanciato via Oh Mo la vinciamo Per il tempo State a vedere Oh Ma questo che vuoi Da noi Vai via Guardalo che Cerca di lanciare Non è facile Comunque Usare la super in aria Sembra facile Ma non lo è per niente Adesso Due a uno Stanno recuperando adesso Regà Siamo un po' nei guai Ok Andiamo un po' No L'ho lisciato No l'ho preso L'ho preso No lisciati Ok Cerchiamo di colpirli E allontanarli Più che altro Due pari Stiamo Adesso abbiamo Un po' di vantaggio No dai Però mi prende al volo Ma che cos'è Ok l'ho mandata via Ho fatta vola Oh 3 a 2 3 a 2 Battaglia combattutissima Questa Vai 12 secondi E' vinta Dai Aia Madonna Ci hanno fatto vola tutti No si Vai To the sky Così 3 a 2 Portata A casa Vinta Così Combattutissima E non sono il migliore Giustamente Te pare Quando mai Però dai Siamo andati bene Non ci possiamo lamentare Vai così Un bel più 8 Su Cindy Abbiamo fatto anche l'altra missione Abbiamo fatto raddoppi oggettoni Non possiamo dire niente di male Grazie Ci piace Allora Pass Giustamente Andata avanti 10 gemmine per noi Che non ci dispiacciono per nulla Ok Ci piace questo nuovo personaggio Abbiamo anche portato qualcosa altro Nuova arena disponibile Interessante Che cos'è Battle Royale Dolce abitito della strega tramonto Li faremo nel prossimo video Sicuramente Monete 25 Ci stiamo portando verso un altro punto di sblocco Allora ragazzi Questa è la puntata di oggi Spero vi sia piaciuta Smash Legends Ragazzi qua sotto nei commenti con l'hashtag Riammi dei like Condividete i video Iscrivetevi al canale se ne ho Passate anche dalla nostra pagina di Twitch E dal nostro Discord Mi raccomando Ci vediamo nel prossimo video